Simone, allora viene alla passeggiata di domani? Simone, ma dai che ci farà bene, dai il percorso per arrivare a Colle Verde è quasi tutto un pianura e poi quando siamo stanchi ci possiamo fermare, spirito se lo sai che non ci sono padre, non c'è la strada. Domani dieta! Matteo, finiscila, non ti preoccupare, dopo pensiamo anche al pranzo. Piuttosto, siete pronti? Ho visto le previsioni per domani, ci sarà un bel sole in campagna. Perfetto, e Francesco? È ancora al lavoro, ma mi ha detto che viene sicuramente, anzi, lui conosce il percorso abbastanza bene perché l'ha già fatto altre volte e ha detto che è bellissimo. Ha detto che conosce anche un posto perfetto per mangiare qualche panino e un po' di frutta. Ci sono anche panche e tavolini, tutto all'ombra. Mi raccomando, non dimentichiamo l'acqua. Nessun problema, ci vado io. Matteo, vieni con me? Sì, ti accompagno. Simona, ti serve altro da fuori? Ali? Troppo simpatica, ma le ali al supermercato non le troviamo di sicuro. Sei incredibile e pigra. Non, non l'ai pa. Bello, tu aspetta la fuori? Si, ah, non l'ai pa. Lo, tu aspetta la fuori? Wow, è molto arrivato. Non, non l'ai pa. Le, ti serve altro da fuori? Non, non l'ai pa. Ni, non l'ai pa. Mi raccomando, non l'ai pa. Grazie a tutti.